E' chiaro che c'è molta attenzione verso le festività natalizie, che sono le festività forse più sentite da noi italiani e non solo. E' chiaro che in questo momento neppure il governo ha la palla di vetro, il governo come voi però sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l'andamento della curva epidemiologica. Gli effetti delle misure di questo sistema che abbiamo adottato sono effetti che iniziano a rivelare i primi segni positivi. In questo momento nessuno e neppure gli scienziati si avventurano a dire quale sarà la situazione per quanto riguarda l'andamento della curva epidemiologica a Natale, durante le festività natalizie. Quindi dobbiamo arrivare in prossimità e capire un attimo come dosare bene i nostri interventi. Se la domanda è, vi state già preparando? Certo, ci stiamo preparando a vari scenari, ma non possiamo adesso, ripeto in questo momento, prevedere quale sarà esattamente la situazione epidemiologica in prossimità delle festività natalizie. Se però la domanda è, ma a Natale cosa facciamo? Beh, a Natale dobbiamo già predisporci a passare delle festività in modo più sobrio, più sobrio rispetto agli anni scorsi e ci auguriamo rispetto a Natale prossimo. Quindi significa, l'ho già detto, veglioni, festeggiamenti, baci, abbracci, questo non è possibile. Ma guardate che qui all'irà delle valutazioni scientifiche, cioè qui occorre buonsenso. Voi immaginate una settimana di socialità scatenata come quella che di solito ci accompagna durante le festività natalizie, significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva. In termini di decessi, nuovo stress sulle terapie intensive sull'area medica, non ce lo possiamo consentire, sarebbe folle. Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio. Questo però cosa significa? Significa che ci auguriamo comunque che l'economia possa comunque svilupparsi, che si possano comunque fare degli acquisti, scambiare anche dei doni. Ma certo baci, abbracci, festeggiamenti, festoni, festini non è pensabile indipendentemente dalla curva epidemiologica. Grazie a tutti.